Girgenti Acque sta scontando un ritardo infrastrutturale grave che purtroppo non siamo riusciti a risolvere in questi anni. E' quanto ha detto il direttore di Girgenti Acque, Gian Domenico Ponzo, in sede di audizione parlamentare davanti alla quarta commissione Ambiente e Territorio dell'Ars presieduta dall'onorevole Giussi Savarino. La commissione aveva convocato i funzionari della società che ha in gestione il servizio idrico integrato nella provincia di Girgento, tirata in ballo in numerose segnalazioni fatte dai sindaci e dalle associazioni dei consumatori. Dobbiamo prendere atto, ha detto Ponzo, del disastro delle infrastrutture della provincia perché tutti i mali purtroppo, veri e reali, visto che parliamo di un servizio che non si può definire ottimale, vengono da questo deficit infrastrutturale che è serissimo, gravissimo e non è stato possibile recuperare in questi anni. Semplicemente perché in questi anni non ci sono stati finanziamenti tali che hanno consentito di fare gli investimenti, cioè quello che avrebbe potuto trasformare il volto di questa provincia. Faccio un esempio, si è parlato della rete idrica di Agrigento che ha avuto un iter infinito. Il gestore si è assunto l'onere della progettazione esecutiva, ha superato tutte le forche caudine dell'iter burocratico che è lunghissimo già all'inizio del 2014. Tutti gli enti e le commissioni hanno dato i pareri. Ci siamo rivolti alla regione che doveva procedere all'emissione di un decreto di finanziamento, ha aggiunto il direttore di Girgentiacque, per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere. E ci è stato detto che non c'erano più le risorse disponibili. Noi abbiamo dichiarato di voler iniziare lavori con la quota a carico del gestore, visto che il finanziamento è misto pubblico-privato, per poi ottenere il finanziamento. Inizialmente ci avevano detto di procedere, ma ci hanno subito bloccato. I fondi sono scomparsi. Nel 2016, con il patto per il Sud, era previsto un finanziamento della rete idrica di Agrigento che vale 31 milioni e mezzo di euro, ma per un errore degli uffici viene inserito il progetto per 30 milioni, con un milione e mezzo in meno. Nonostante questo, Girgentiacque, pur di iniziare i lavori della rete idrica, perché quella attuale è faticente e fa perdere più del 60% di acqua, ha detto va bene, ci faremo carico della parte non finanziata. Dopo diversi pareri, ad oggi c'è stato detto di aggiornare il progetto, di certificare la progettazione. Noi siamo pronti per realizzare questa opera con i tubi in mano e gli escavatori pronti, ha concluso il dottor Ponzo, ma la burocrazia ci sta bloccando.